come fa come ha fatto entrare in un negozio chiuso lei sta aperto aperto e chiuso è aperto è aperto è aperto tu l'hai trovato mai chiusi nel negozio? no no e tu hai chiuso il negozio? nessuno ha chiuso prego 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 venigli aperto è aperto veramente aperto non parlare l'italiano è aperto 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 benvenuti a Maranarid benvenuti a Maranarid grazie delicioso delicioso Maranarid delicioso Maranarid giusto? non non è chiuso non è chiuso sono chiuso di covid ha detto qualcuno tutti bene tutti dal più grande al più più tutti bene non siamo nascendo ma c'è niente? niente il covid non ha preso solo le vie respiratorie ma ha preso tanti cervelli ha preso purtroppo il covid il male più grande che sta facendo è osservito quelle persone che condividono che condividono cioè non si può condividere delle bufale delle cose strane cose non vere il problema non è solo nostro perché non di tutti noi stiamo venuti da voi per questo di tantissime persone e tantissime problematiche da non condividere non dire fesserie però è al discapito poi di tutti il covid è una cosa seria è una cosa seria va affrontato come una cosa seria però tutte queste strunzate che girano e no e basta è vero o non è vero ma è così va bene così anche a livello economico che porta altre problematiche la mazzata c'è stata chiusi o aperti la mazzata c'è stata per tutto il mondo tutto il mondo lui lo mette sempre a lavorare vi salutiamo da Maranarid, Barivecchia storico negozio di dolciumi dove stanno tutti tutti bene questa persona passa dei guai anche a livello penale assolutamente ma voi l'avete individuato ma noi stiamo individuato o no però siete vicini è vero avete ristretto il cerchio dove stanno facendo la zona di San Marco dove stanno facendo la zona del Ducastid dove dove perché poi possiamo dire ma quindi siete intenzionati di andare avanti parte civile e pagherà dei danni pagherà anche dei danni ma la domanda che noi ti poniamo a te guardami guardami qua negli occhi a spicchi a tan san lontano guardami qua ci vuoi fare fa? perché? guardami qua guardami qua